Piace il venerdì delle famiglie o venerdì in centro, l'iniziativa organizzata dall'assessorato al commercio insieme ai commercianti per rivitalizzare e offrire una vita normale alle famiglie e ai giovani tra le vie del centro cittadino. Concerti, spettacoli, piccole mostre e negozi aperti fino a tardi. Soddisfatto l'assessore e vice sindaco Raffaele Daniele che fa un bilancio dell'iniziativa e di fronte alle richieste dei cittadini, dell'associazione Mamme per l'Aquila in particolare, anticipa che l'amministrazione sta pensando a una proroga. Quella di oggi infatti è il quinto e penultimo appuntamento. Ne prenderemo atto, se veramente è piaciuto così tanto potremmo anche pensare di fare come succede nelle trasmissioni di televisione fortunate, uno speciale, un'ultima puntata speciale. Questa è stata la cosa più bella, vedere la città che si muoveva per la città e quindi quello che abbiamo fatto noi è stato soltanto avere l'intuizione di intercettare questa voglia di riappropriarsi di uno spazio e di mettere un attimino in rete tutti quanti. Quindi non ci siamo inventati niente di straordinario, è stato un evento della città per la città e questa è la cosa che da Aquilano mi inorgoglisce di più. Quindi un bilancio più che economico di tipo sociale? Assolutamente sì, anche perché diciamo la verità da un punto di vista economico non sono costati molto. Gli artisti che suonavano non avevano palchi ma suonano dei tappeti. Abbiamo fatto una cosa normale, non abbiamo voluto stupire con effetti speciali, abbiamo voluto fare una cosa normale perché dovevamo riappropriarci la normalità. Quindi le persone che uscivano non dovevano fingersi esperte di jazz, di teatro, di medioevo, di nulla. Dovevano soltanto avere voglia di riappropriarsi del centro storico e di passare una serata in maniera spensierata e di dimenticare i problemi che hanno a casa e di rilassarsi. Assessore, c'è adesso un percorso importante che è quello della consulta voluta fortemente dai commercianti che mette insieme tante anime della città. Che punto siamo? Oggi se non fosse mancato il numero regale l'avremmo approvata. è una cosa fatta da chi svolge questo ruolo per chi svolge questo ruolo.